9. Solo a giochi fatti, è ovvio, le ore assumono tutta la loro importanza. È il giorno della nascita di uno dei più grandi giallisti di tutti i tempi, il creatore di Maigret, quindi di un investigatore che tutti conosciamo, Georges Simenon, belga di lingua francese. Una sua caratteristica era prolifico, riusciva a produrre tantissime pagine dei suoi capolavori, fino a 80 pagine al giorno, più ancora di altri fenomeni come Asimov o Stephen King. I suoi eroi, i suoi personaggi erano molto stabili, lui invece nella vita era mutevole. Pensate, cambia residenza per oltre 33 volte.